Molto buono direi, abbiamo fatto sei giorni insieme dove abbiamo sia fatto gruppo sia abbiamo avuto modo di allenarci mattina e pomeriggio con l'aggiunta anche del mare quando si riusciva, quindi direi che si è coronata oggi con la vittoria del torneo, quindi direi molto buono. Certo, abbiamo altre due amichevoli se non mi sbaglio, ritorniamo a Brescia, ci ritorniamo a allenare a San Filippo e l'ultimo step per arrivare bene al campionato e dobbiamo continuare così.